Quanto si è complicata questa partita rispetto a come ve l'aspettavate? No, no, aspettavo forse una partita dura contro una squadra tosta che in casa gioca bene. Monza è cresciuta dall'inizio dell'anno, quindi oggi ci aspettavamo una bella tosta. Muro decisivo, nelle fasi finali è una delle giocate più importanti del tuo anno. Sì, oggi sono contento. Volevo vincere, volevamo vincere tutti e abbiamo vinto. Mi chiedo un'ultima cosa, sei contento di non dover partire per il ritiro della Nazionale? Eh, bosca ragazzi, molto. Molto, guarda, io quando era caduta quella palla me lo ricordo proprio tutta la vita. Ero lì la sera prima e ho detto ragazzi, siamo stati bravissimi. Se vincessimo l'Ulpia siamo eccezionali, però sì, anche perché siamo stanchi fisicamente. E sì, meno male che siamo stati bravi a vincere perché sennò il calendario non ci supportava in questo anno. Grazie mille. Grazie mille. Ciao.